Vabbè ragazzi, quindi una sbentina, questo si presuppone che dobbiamo essere un attimo rapidi nella presentazione. Dunque una rassegna consiste in sei eventi, un al mese, quindi a monte trattasi di una cosa agile, svelta, rapida, in cui sostanzialmente l'obiettivo è quello di realizzare un vecchio feticcio che ho sempre un po' avuto su me stesso e che mi piace proiettare sugli altri, cioè di, fra virgolette, forzare degli incontri, forzare nel senso buono, nel senso che mettere insieme linguaggi, personaggi, che magari per provenienza, per formazione, per veduta, che vi dire, che magari provengono da aree diverse. Quindi attraverso un fatto di applicabilità ho chiesto di una serie di persone di spattuto, darsi del tempo per incontrarsi e realizzare qualcosa, condividere così, delle cose ad edizione limitate. Infatti la sveltina è questa, sono delle esperienze che, a meno che poi le persone coinvolte non siano rimaste contente, nasce e finisce qua, quindi in un certo senso è ad edizione limitata, è proprio più di gusto che la cosa avvenga e che sia, ripeto, senza precedenti, sia nella formazione che nel tipo di proposto. Grazie a tutti!